Finalmente Cannabis Store Amsterdam è anche ad Eboli, in esclusiva una linea selezionata di prodotti biologici di alta qualità, testati e messi a punto per assicurarvi solo il meglio. Si parte dal caffè per arrivare all'abbigliamento, passando per tisane, dolci, energy drink, prodotti perfumatori, tutto rigorosamente a base di cannabis. Da millenni sono riconosciute le proprietà terapeutiche della cannabis sativa, migliora il metabolismo e indicata contro l'insonnia, l'ansia e la depressione. Cannabis Store Amsterdam vi aspetta ad Eboli in via Ceffato 138.